Sì, io mi sto vicino a strada Allo fuori Ugo, l'ho visto, ho una macchina A terra Ucciso Ok, va tutti bene no, 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 no andiamo al lanche, lo prendete o no? eeeh, ci sarei qui arriva uno da qui si guarda uno ucciso, ucciso, ucciso vabbè che c'è lo shop, se riesci dovrebbe comprare cose ucciso un altro in volo aspettato, allora sembra la torre ai bambieri ancora non è uno qua, uno qua ha fermato, va? no, sta dietro, sta dietro sono sotto